Il 15 ottobre, nel primo pomeriggio, eravamo in pattugliamento nello stretto di Sicilia e ad un certo punto è arrivata una comunicazione dalle superiore autorità di una tante con dei problemi e quasi contestualmente è arrivata l'allarme e l'imbarcazione poteva essersi rovesciata. Il 15 ottobre, nel primo pomeriggio, eravamo in pattugliamento nello stretto di Sicilia e l'imbarcazione poteva essersi rovesciata. Ok. Per cui non vi avvicinate, però tenetevi nella misura di intervenire un'oretta, quindi più o meno una ventina di miglia. Allora, io sono in libera da quella posizione, ragazzi. Guardi, io sarò adesso comandante a una quindicina, probabilmente. 39? Pronto? Perché, 17 miglia. Eh, infatti. Tieniti a questa cosa, non ti fa vedere, non ti preoccupare, va bene? Va bene, io mi tengo pronta. Tu non ti fa vedere, se non mettono un motore in avaria, roba varia, non si avvicino più. Ovviamente. Ricevuto comandante, attendo eventuali sue disposizioni. C'è Cilibra, capito, buona sera. Sì, c***o, sempre da cinca, c'è comandante? Sì, comandi, comandante. Una cosa, allora, se Malta invia la motovedetta, voi dovete evitare di essere sulla congincente Malta-Turaia. Roger. Ok? Perché se vi vede, a un certo punto, gira capo al giù, se ne va. Guarda caso, Roger ricevuto assicuro. Va bene, quindi non so, scendete, scendete un po' verso su. Sì, a massimo scendo un po' giù. Sì, va bene. Ciao, ciao. Grazie, comandante. Ciao. Buonasera. Ciao. 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 Quanto? Ok, 17 miglia. E infatti. Tieni per questa cosa, non ti fa vedere, non ti preoccupare, va bene? Va bene, io mi tengo pronta. Tu non ti fa vedere, se no mettono un motore in avaria, roba varia, non si avvicino più. Ovviamente. In via la moto vedetta, voi dovete evitare di essere sulla congincente Malta-Turaia. Roger. Ok? Perché se vi vede, a un certo punto, gira capo al giù, se ne va. Guarda a caso, se non mettono un motore in avaria, roba varia, non si avvicino più. Ovviamente. Ricevuto con un attento. No. Gira capo al giù, se ne va. Guarda a caso. Roger, ricevuto. Va bene, grazie, non soggiorno. Va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.